Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fornito una breve dichiarazione spontanea dichiarando di non ricordare nulla dell'accaduto. Si è concluso così l'interrogatorio di Leo Varallo, il 42enne di Taranto, che sabato mattina ha ferito a colpi di pistola due poliziotti dopo aver cercato di rubare un'auto di lusso da una concessionaria. L'uomo, difeso dall'avvocato Andrea Silvestre, è stato ascoltato in carcere dal GIP Francesco Maccagnano nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto alla presenza del pubblico ministerio Maria Grazia Anastasia. Deve rispondere di tentato omicidio, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti di altri sei agenti contro i quali si è scagliato prima della cattura e poi di tentata rapina, detenzione illegale di armi e minacce. Scioccante la ricostruzione dell'accaduto con la sparatoria che è stata parzialmente ripresa da una telecamera di sicurezza installata in Viale Magna Grecia, zona centrale di Taranto. L'uomo, ex guardia giurata, si è introdotto in una rivendita di auto per provarne una di grossa cilindrata. Improvvisamente ha preso le chiavi di una Porsche e l'ha messa in moto nonostante i tentativi del concessionario di bloccarlo. Il giro a bordo della vettura sarebbe durato circa dieci minuti con il titolare del negozio seduto sul sedile posteriore, fino a quando quest'ultimo è riuscito a spingere il 42enne fuori dalla macchina. Una volta intervenuti, i poliziotti hanno cercato di fermare l'uomo, che ha reagito esplodendo alcuni colpi di pistola ad altezza d'uomo contro il parabrezza e il finestrino anteriore dell'auto di servizio, con a bordo due agenti di 38 e 44 anni, originari di Martina Franca. Entrambi, fortunatamente, se la sono cavata con ferite e giudicate guaribili in 15 e 30 giorni. Varallo è stato poi bloccato ed arrestato poco dopo la sparatoria. Secondo quanto si è appreso, avrebbe agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.